Allora, abbiamo gianciere 15 più 10, quindi sono 35 kg, la sbarra è lì e Gloria è qui. Gloria sei tra noi? Se ci sei batti un colpo! Che stupido! Quando vuoi faccio partire il countdown! Quindi 75 kg, mi raccomando, concentrati sul tuo mare cagare! E' mica, o me l'ha facciata la politica! Ecco la piangina! Ok, 12, 8, 4! Ready? 10! 3, 2, 1, go! 1, go! 1, go! 1, go! 1, go! 2, go! 3, go! 53 secondi adesso! Sì, sì. 8 2 minuti 8 8 9 10 11 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 21 21 21 22 22 22 Grazie a tutti. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 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 12, 11, 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 12, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 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 11 Wow, I don't know. Grazie a tutti. 5.30 adesso, dai! 5.30? Sì. Su, 8 minuti, vero? Sì. Dai, Gloria! Adosso! Sì! 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 1 minuto e 20 secondi! 1 minuto e 20 secondi! 4, dai, 1! Ok! Dai, veloce, che così batti Mattia, forza! Dai, 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 dai! Vai, corri alla sbarra! Subito, subito, subito! Stop! Cazzo, uguale, uguale, uguale! 3? 3? Sì! Io! Uguale, Gloria! 3 anche te, eh? Minchia! No, va bene, sono uguale, giocati bene! Esatto! Esatto! Ok! Adesso, abbiamo il bilanciere già carico di qua, con... Eh, ma cosa? Lasciala, lasciala riprendere! 5, 20, 20, 20, 20, 25, per un totale di 65! Siamo a 9 minuti, è passato un minuto! Siamo a 9 minuti, è passato un minuto! Siamo a 9 minuti, è passato un minuto, è passato un minuto, è passato un minuto, è passato un minuto! Dai! Abbiamo 4 minuti adesso! Sì! Vai cattiva, eh! Sì! Dai, su! Sì! Vieni! Go! Vieni! 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 Abbiamo 3 minuti, grazie. Grazie. Dai, su! Dai, pazzarola! Sai che è tua, eh? Ce l'hai, eh? Vai sotto, decisa! Vai, aspetta un attimo! Aspetta un attimo! C'è! Vuoi la cintura? Due minuti, eh? Lì hai tempo! Vai bene! Bella sotto! Guarda! Due minuti, eh? È larga? È la mia! Un minuto e mezzo! Un minuto e mezzo! Dai, Glo! Dai! Aspetta il piacere! Easy! Quella! Stallone e spingi forte! Eh! Facile! Scora! Dai! Ormai tre! Dove hai tempo che... Soprì! 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 Mi non funziona! Davide! Davide! Soprì! 45 secondi! Davide! 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 Voi! Davide! Davide! Voi! Sì, dai, su! Quindi devi tirarsi sotto, vado a scendere, a Luca la splizza! A Luca, scende! Sì! Ah, 15 secondi dalla fine, adesso è finito! Ne lo so, aspettiamo che finisce il tempo ormai! Allora, abbiamo fatto bilanciere 15 kg, poi abbiamo 1,5 kg Bilancia che si vedeva? Sì, 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 forte e chiaro! 2,5, 5 e 20 per... Della uguale, 20, poi abbiamo 5 Allora, 1,5 Vai, tac! Sì, sì, ma si vede? Non abbiamo il nostro telefono Un saluto al mondo! Un saluto al mondo! 5 e 20 di là, bello, blu Il bilanciere! Il bilanciere è già visto, ma lo facciamo rivedere La prima deve essere l'interno, ma tu puoi fare! Voilà! E abbiamo 73 kg! Supporter! PASA PASA